Oggi è un incontro che fa parte di questo percorso di consultazione sul piano urbano di mobilità sostenibile che fa riferimento alla città metropolitana. Il tema della mobilità e dei trasporti è uno dei temi centrali per la transizione ecologica. Noi dobbiamo affrontare anche in relazione a quelle che sono le direttive europee e gli investimenti significativi che provengono dal PNRR e dai fondi di coesione e che stiamo attivando negli ultimi mesi consentiranno una rivoluzione dei trasporti nell'area metropolitana raggiungendo anche aree che oggi sono prive di mobilità. Un grande sforzo che parte ovviamente da una situazione fortemente deficitaria e che è sottolineata da tanti sindaci e tanti cittadini ma sicuramente potremmo avviare un percorso molto positivo che ci porterà a dare risposte concrete a coloro che hanno bisogno di mobilità nell'area metropolitana di Napoli.